Oggi parliamo di Spaniel, sono razze a me care, anche se non sono le mie razze principali. Springer è un cane che io ho apprezzato appunto avendone a casa, è un cane che io ho usato nei miei addestramenti perché l'ho sempre usato come ausiliario davanti ai miei retriever ed è un cane che trovo assolutamente, e per questo lo consiglio a tutti, veramente gran cacciatore. È un cane molto dinamico, dal movimento molto 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 gentile, lo trovo elegante nel suo movimento. Perché addestrare uno Spaniel? Io penso che sia indispensabile avere uno Spaniel ben addestrato perché prima di tutto non essendo un cane che ferma, potrebbe essere un cane che ti crea difficoltà andando a caccia per quanto puoi involare selvatici a distanza a cui tu non puoi sparare. Seconda cosa, usandoli sempre come ausiliari ai retriever e quindi lasciando la parte del riporto alle razze retriever è corretto che il cane dopo aver frullato si fermi e interrompa la propria azione. Detto questo, sono grandi riportatori, quindi nel momento in cui poi vengono lasciati e gli viene chiesto di riportare, sono cani che effettuano e sviluppano il loro lavoro in maniera brillante, ma comunque sempre sotto controllo. Lo Springer io trovo che sia un cane, una razza, una razza Springer, veramente molto addestrabile. È un cane, per quello che sono le mie poche esperienze, quello che ho visto in giro, che si presta molto ad essere addestrato, sia nella parte quartering, quella che si chiama quartering, quindi di caccia e di ricerca, sia nella parte retrieving, quindi nella parte del riporto. Quindi posso solo darvi le mie piccole esperienze, ma le trovo una razza magnifica, la trovo una razza veramente di grande coraggio. Trovo questi cani, cani che per recuperare e cacciare la selvaggina si buttano in qualsiasi situazione, dai roveti a qualsiasi tipo di terreno. Sono cani ottimi anche in acqua per il recupero. li ho usati nelle valli per recuperare gli acquatici, li ho usati in pianura per cercare anche le quaglie da sparare per far riportare il labrado. Quindi li ho usati un po' in tutte le situazioni e quindi è una razza che a me piace molto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.